I sigari entrano sempre di più anche nell'uso comune nelle nostre regioni, che cosa danno in più i sigari? Il sigaro è un momento di passione, un momento per degustare qualcosa di eccezionale, di unico e quindi in Italia specialmente noi abbiamo una grande cultura per queste cose e forse siamo anche naturalmente portati per gustare al meglio questi splendidi prodotti. Cosa farete questa sera? Questa sera c'è una serata che è organizzata dalla tabaccheria Amboruso, che è riuscita a far invitare tanti tabaccai qua della zona della Puglia e fumeremo un sigaro eccezionale, l'Ukman Sir Winston, uno dei sigari più importanti, emblematici della marca e quindi sarà una serata dedicata anche a questa marca.